I microRNA sono delle molecole che vengono prodotte da tutte le cellule e vengono rilasciate all'interno del sistema circolatorio per cui vanno in giro per tutto l'organismo raggiungendo anche dei siti molto distanti da quelli della cellula che li ha prodotti. Sono dei biomarcatori interessanti perché? Perché li troviamo nei fluidi biologici quindi questo ci permette di lavorare su matrici poco invasive come per esempio la saliva e l'urina oppure anche sul sangue per cui minimamente invasive. I microRNA rispecchiano quello che è lo stato fisiopatologico del paziente per cui in base allo stato di salute il pannello di microRNA espressi varia. Questo che cosa ci permette di quindi vedere? Vedere se il pannello è associabile a una determinata patologia, nel nostro caso la patologia cardiaca del cane. Ci siamo accorti che alcuni di questi microRNA variano e quindi l'idea di poter approfondire questo studio ampliando la corte di pazienti è nata nell'ottica di rendere solido il dato da una parte, verificare se questi biomarcatori sono espressi anche precocemente quindi riusciamo a prendere la patologia molto prima che effettivamente i segni clinici siano evidenti al cardiologo. In questo modo riuscire a prendere la patologia in una fase precoce permette una vita migliore del cane perché è possibile evitare o ridurre alcune terapie e quindi garantire il benessere non solo dell'animale ma anche della famiglia nel quale l'animale vive. Puoi fare la differenza. Dona ora.